Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricognitore in volo. Attenzione, segnalo la posizione del bersaglio. Generatore di fumo avviato. Se lo riadretta. Rilasciata cortina fumogena. Ricognitore di ritorno. A tutte le unità, concentrare il fuoco sul bersaglio. Grazie a tutti. A tutte le unità, procedete verso la cattura di quell'area. Grazie a tutti. 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 Generatore di fumo avviato. Ho bisogno di dati. Rilasciata cortina fumogena. Cattolica fumogena. Caccia torpediniere Caccia torpediniere Caccia torpediniere Caccia torpediniere Ricognitore in volo Provide anti-aircraft fire support Caccia torpediniere Caccia torpediniere Caccia torpediniere Caccia torpediniere Ricognitore di ritorno Generatore di fumo avviato Fornire fuoco di supporto Contraereo Ben fatto capitano Requestion assistance Rilasciata cortina fumogena Caccia torpediniere Attenzione Attenzione Segnalo la posizione del bersaglio Caccia torpediniere La battaglia Terminerà Tra cinque minuti Concentrare il fuoco Perfuso sulla nave nemica Perfuso sulla nave nemica Perfuso sulla nave nemica Perfuso sulla nave nemica Perfuso sulla nave Perfuso sulla nave La nostra vittoria è vicina Ritirata Ricognitore in volo Allarme incendio Problema risolto, signore A tutte le unità, concentrare il fuoco sul bersaglio Problema risolto, signore Ricognitore di ritorno Allarme incendio Problema risolto, signore Ti devo un favore Problema risolto, signore Abbiamo affondato una porta aerea inimica Abbiamo affondato una porta aerea inimica Abbiamo affondato una porta aerea inimica Abbiamo affondato una porta aerea inimica